Proteggere Frutta e Verdura è contaminata dagli agenti cancerogeni presenti nell'area. Due mesi di lavoro per i ragazzi dell'istituto, seguiti passo dopo passo dal professor Francesco Merra. I login, una volta completati, sono stati esaminati e valutati da una commissione composta dallo stesso presidente dell'associazione Tutt'altro, Antonio Tragno, presidente di Onda d'Urto, il dottor Dino Leonetti, Rosanna Russo e Giuseppe Lomuscio, presidente dell'associazione Giorgia Lomuscio. L'iniziativa nasce dopo aver notato alcuni frutti vendoli andriesi, non esporre frutta e verdura all'esterno del proprio esercizio, spiega Francesco Merra. Inoltre, come associazione Tutt'altro, abbiamo a cuore questa tematica, avendo noi in primi su un orto all'interno del nostro spazio nella villa comunale di Andria. Vogliamo sensibilizzare tutti i venditori, conclude, ad aderire a questa iniziativa e ad agire nello stesso modo per il bene e la salute dei nostri cittadini consumatori. L'importanza di tale progetto è spiegato dal dottor Dino Leonetti. La frutta e verdura, ma anche altri alimenti che sono esposti agli inquinanti ambientali, faccio riferimento per esempio al traffico veicolare, quindi da gas di scarico dei veicoli circolanti, in particolare alcuni tipi di verdure, penso ai funghi, penso alle verdure a foglia larga, sono questi degli alimenti altamente assorbenti gli inquinanti, non solo le polveri, ma anche benzene, diossine, furani, idrocarburi policiclici aromatici, che per noi medici significa cancerogenesi, cioè rischio di insorgenza del cancro. L'iniziativa è importante perché se vogliamo far parte di una società che sia consapevole e responsabile delle proprie scelte, bisogna che si incominci anche da questi piccoli passaggi, cioè queste piccole attenzioni. L'iniziativa che noi vogliamo proporre come onda d'urto non è vessatoria nei confronti di chi commercia in questo tipo di alimenti. Vorremmo, auspichiamo, che siano solidari con noi e quindi partecipino anche loro a questo sforzo culturale che noi chiamiamo evoluzione. Due i loghi scelti dalla Commissione, ora sì, provvederà alla realizzazione di un unico lavoro che comprenderà le caratteristiche di entrambi.